Visto da lontano sembra un puntino nero nel cielo, immobile e sospeso nell'aria. Il mago Dynamo ha cercato di stupire il pubblico levitando a 310 metri d'altezza sulla punta dello Shard London Bridge, il grattacielo più alto dell'Unione Europea. Peccato però che questa volta non sia riuscito nel suo intento. Dopo aver passeggiato sul Tamigi e levitato a lato di un autobus bipiano nelle strade di Londra, i suoi trucchi cominciano ad essere prevedibili. Così sui social media molti utenti hanno iniziato a criticare la sua performance. Si riescono a vedere i fili, hanno scritto su Twitter, dove Stephen Freyne, alias Dynamo, aveva postato una foto con la didascalia. La vista da qui è spettacolare.